sinistra di incrociare, era da posizione molto defilata nonostante questo è riuscito a trovare l'angolino, continuiamo a vedere nonostante il campo ridotto, moltissimo che hanno usato nel frattempo Rizzini ha cavato a contendere qualche tifoso scagliando un pallone sui dispatti del primale di carciato e ha partito subito il vuoto di presenti. Sì, è anche iniziata la corsa al pallone, questo vuol dire, nel frattempo gli scuri continuano ad attaccare, non riescono a spondare il muro elettro, la ripiena gialla, a bordo campo c'è anche Lorenzo Tonelli che ha sbocco la cicletta, però per il momento sembra essere finito questo momento la parola, con il fisco di Carlo Canceli.